Camera, carta, manetta Ciao ragazzi Città di Barga, eccoci qua Buone? E gente che mangia Eccoci qua alla partenza Cion numero è? Fala metter in parte gai No, 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 fai giocate Fala andare Fanno andare Oh, io c'è parte il prima, eh FRIZE! ma cattiva curva su che ti mi sceglie da dentro, buona luce, ma che tiene qua, si, ma quel che mi vece, sta pulita, ma che sto, ma spettacolo, ma che si la ponte no che perто come internavi che il fondo è 0 e il pinro parte di quello che spazio e di qua su, su perché guarda? se dovete guardare un po' bravo mollare un po' eh, tocca, 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 tocca un po' troppo forse non vede la messaggio si troppo fa, troppo, 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 troppo ... pare чисto qua a coso quindi ha corruzione aderci su, tra le poire ma m o con dei tempi dentro, si vede? si, adesso vediamo dai saluta a te in partenza tutto a posto? dopo mi raccomando entra un po' non buono eccoci da freyus comunica comunica ecco c'è la partenza 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 è tanto bene come non c'è la partenza eccola qua di capa l'ultima curva Armando Posini E' quella quasi va tutto bene l'altro E' una esce molto bene qua E' un guadiroce E' un po' di più che non c'è un po' di più Si va bene l'aereo 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 aci già mi distraia tutto quello che sei paia una lucita Sono già partite le donne? Perché è il riferimento?